Al via la 53esima edizione del Vinitaly, il Salone Internazionale del Vino, che vedrà la partecipazione di 115 cantine abruzzesi. La cerimonia di apertura dello spazio Abruzzo si terrà domani alle ore 9.30 alla presenza dell'assessore alle politiche agricole Emanuele Imprudente e dell'assessore al turismo e attività produttive Mauro Febbo. In contemporanea al Vinitaly si tiene come tradizione anche il SOL, la rassegna internazionale dell'agroalimentare di qualità. L'Abruzzo è presente con 20 aziende.